Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi siamo di nuovo alle prese con Company of Heroes 3 nella nostra avanzata verso il nord Italia. Allora, nell'ultimo episodio abbiamo superato il Volturno conquistando Cancello, siamo alle porte di Benevento che dobbiamo conquistare se vogliamo salvare i Sass che si trovano qui sulle montagne e qui a destra invece abbiamo oltrepassato il fiume e adesso dobbiamo andare verso Altamura, ci dobbiamo ricordare pure che qui in mezzo ci sono delle truppe nemiche, infatti quello che io farei è tipo questo per vedere chi sta dove, qui non c'è nessuno, dove è andata? Quell'unità che stava qui è scomparsa, maledizione. Dobbiamo prendere Spinazzola e Altamura, quindi direi tu vai ad Altamura, sperando che non ci siano batterie di 88 o qualcosa, no, non c'è niente, guarda che bellina Altamura. Ah, c'avevo uno scudo, è vero, distruggiamo questa. Ok, Spinazzola, addirittura tre eri c'è, quindi dobbiamo assolutamente conquistare, per forza. Purtroppo non possiamo, come dicevo l'altra volta, non possiamo fare gli eri ancora perché abbiamo il cap della popolazione al massimo, per cui... Poi, allora, so che dovremmo andare a Benevento, ma io direi, prima di tutto distruggiamo gli 88 con loro. Ok, e tu distruggi questo. Ok. Bene. Adesso. Qui c'hanno almeno due brigate. Camp Grufe... Camp Gruppe... Piper... Enditrick, che si stanno... Ritirando. Adesso dobbiamo fare questo. Il problema che io vedo qui è che... Potremmo dargli gli unitanti aeree, ma... Why? Ci proviamo? Proviamoci, ma mi sa che questi ci spariranno. Allora, aspetta, avviciniamoci un attimo qua. Non ci hanno sparato. Ok, 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 ok. Ci hanno supporto... Niente, è obbice antiaereo. Ah, dobbiamo salvare qui, comando. Ok. Si, sembra che non abbiamo molto tempo. Questi uomini non potrebbero scegliere più di più. Non ci sono più. Uh, anche lo Sherman ci abbiamo, e vai. Sì, sembra che non potrebbero scegliere più di più. Bello. Eh, lo so. Lo so, dobbiamo sbrigarci. Fammi dire il comando. Si è ragliati. I red devils. Come on, boys. Don dilly dally. Ok, allora, vediamo un po'. Qui dobbiamo creare un punto avanzato. Intanto prendiamo questo. Grazie. Brenn. Brenn. Uh oh. Ok. Alla ciafiamo ci servo C'è mia fatta? 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 Povore Vediamo lo stanno Aspetta che magari ce l'abbiamo vicini Sta laggiù Spesso Speri Dica C'è mia fatta? Come in the bloody place I'm gonna do We're moving No fucking loading Move Come on, sappers, get to follow it. Come on, ladies. Presenting. Securing enemy territory. It's alright. Get moving. All right, we go down. Let's move on. Enemy troopers, getting keen. Oh, we need it elsewhere, lad. Let's get to it. Cowards are shooting at us. Shoot men! German things on us, sir! Hey, driver, this is eight. Gunner, swimmer. Good. Military squad feeding the boat, Zik. All of those bastards in front. Captured! No! I've got our parentheses! Park them out! That's the hat! Do it! German things on us! We're loading! I'm getting naughty! I've been up! Keep that up! I don't have to hit every time. We're getting away! I'm sucking the fish! I'm waiting for destruction, sir! Get in! Reload as you like! Getting antsy! Give up order! Quiet down and leave us! Get in there! Stafford! We're just gonna get up. We're ready to destroy those 4,000 tanks! We're ready to destroy those 4,000 tanks! We're ready to destroy those 4,000 tanks! We're gonna get there. We're gonna get there, but I'm attracted you myself! We're gonna get to it! You're catching my patience! I'm waiting for destruction, sir! Ci ha trovato una traccia! Chiudere! Guarda la scuola! Non c'è un ruolo! Non c'è un ruolo! Chiudere! 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 Chiudere? Un'quiettile! Chiudere! 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 Si! Si! Questo è stato funniamo! ok abbiamo l'agente di comando e il caro armato non è vero non 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 A presto i resti dei uniti e segure la città! Si tracca la mazza! I'm calling in bed over there! A presto d'accounting for a seco! Corporal, we aren't going anywhere until we have that intel. Questo verano. D'acquadre! We're gonna hold this position and buy those men some time. Perchè posizione non valida? Perchè non sta nel nostro terreno? Adesso si però Il fatto è che se metto questa qui Allora voi andate a controllare qui, a volte ci fosse qualcuno Allora, facciamo Allora, facciamo I'm starting the work, quiet down and listen up I don't wanna hear a fucking word, man Present to the camp, cut your mush and move your feet Pay attention, come on ladies while we're young Crusader cruiser finished I don't know Dobs better than fucking paperwork I think we're getting new orders chaps Sherman ready for action, it's when we have spare We go orders lads Noids, he's been free to attack us And this And this Vediamo che c'era gente Buongiorno Royal engineers ready Start in the work Landmines in place Receiving your load and clear Landmines in place Possiamo fare una tipo Ah c'è un anticarro lì C'è l'artiglieria Possiamo fare più niente Andate al centro Perché non so dove ci servirete Può fare un boffor A qualche parte Tipo qui No 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 Allora Start in the work M3 on stem Sì 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 Isaiath? Enemie rinforcamenti incoming! Arrivano... Prodeggi il comando mentre cerca informazioni Ah no ma sarà questo Ok Grazie a tutti è bel welfare dovremmo andarla a distruggere ma come per l'artiglieria qui l'ingineer Sattlet, devi andare a shift some dead wings? Sattlet, ready to destroy shuttle. Sattlet, pass it up now. Sattlet, pass it up! 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 But you can't help them if you're dead! Sattlet, pass it up! Oh, let's go, let's go! Sattlet, pass it up! Fire, man! Fire! Ah, non possiamo distruggerle. Cioè, non possiamo sorpassare il... Questo, il ponte, mi viene al termine specifico. Oh, via! Sattlet, pass it up! Oh, yeah! Will it be, sir? You're again here! I'm tracking myself! Max! Max! I'll let them sound in here! GS fight going down! Oh, God, this fight! Find out! Find those bitches! Sattlet, pass it up! Pull numbers! Sattlet, pass it up! Sattlet, pass it up! Sattlet, pass it up! No, they're back! Sattlet, pass it up! Sattlet, pass it up! Ma curano o non curano? Non schiacciare, miei Ci arrivi due qui? Ci arrivi? Oh, quel cavolo che ci arrivi Oh, non, 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 via! Non ci arrivi? Ma. Ma. Il primo! Accor! Il primo è stato colato! Non è stato riuscito! Si è stato fatto! Come and buy! Come and buy! Come and buy! Come and buy! Come and build us up! No! No! non siamo riusciti a ristruggere questa ci pavano solo un cannone beh perlomeno abbiamo salvato il commando ok ottimo valenti a prova e gli altri no abbiamo preso benevento il prossimo è messaggi enigma decrittati rivela compagnie campieri e azioni navali del nemico ok bene ah ma non era questa la missione comunque c'è un'altra per salvare i sas ce lo dava qui ma c'è anche qui quindi dovremmo farcela in teoria certo questi saranno un po' un problema però può ma solo un punto ma porca miseria allora aggiunge due casse di munizioni al lancio del carburante potenzialmente ingegneri rinforzati aumenta di uno le dimensioni della squadra dei royal engineers questo non è assolutamente male mortaio no facciamo questo pignataro maggiore arrivarci gli piace proprio sorvolare i nostri sas eh ecco li vedi alife oh 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 gli inizia la battaglia anche se le faccio tutte non mi frega niente ma risoluzione automatica di cosa comunque hanno velocizzato tantissimo i caricamenti ma veramente stavamo vincendo soprattutto perché questa arancione boh ok abbiamo già tutta la base facciamo questi facciamo questi due grazie e vai eh si ma pure ci proviamo ma non vi assicuro niente anche perché non c'è una buona posizione o no Non c'è neanche una buona posizione Dove piazza questo Possiamo provare così Ah sono le scorte Ecco che erano Allora Possiamo costruire niente Possiamo potenziare Riduce il 25% L'attesa dell'abilità di fanteria Sì Quit lagging behind We've locked down the sector Locking down the perimeter Stand by We got the tools All quiet Boss wants a fighting position Cover in this area Well aren't we a sight for sore eyes All right Stop filling those bags We're all here sir We gotta capture and hold that ground You yokels are good for something after all Position finished Cover complete You heard the boss Captain here What do you know the drill Securing location What's our capture territory Sausage side Facciamo questo Così ci curiamo i soldati Fai Un minimo di barricata Anche qui Di sacchetti E qui la divisione Ah sì la divisione La difesa fa veramente schifo Ehi Ci provare Sfranta Sfranta Hit the order Engage that infantry Engage that infantry Fockers down Grenade Grenade Drop the Follow me Here we go Fight Hop to it Ladies Here we come Mark over there K We're ready to go sir Mark that grenade I'm right ready Square kit Make sure that light Got as plenty of max Allora che possiamo chiamare Il cannone anticarro O il semicingolato No aspettiamo questo Il cannone anticarro Le squadre rinforzate dai feriti Del centro di primo soccorso Ottengono una piccola quantità di punti di anzianità No Aspettiamo il Whizbang Adesso Vedi un po' Ammazzare quelle Ok Dai 5 Poco di soppressione Poco di soppressione Non ce ne sono qua Non ce la faremo a prendere lo Whizbang vero? No Però abbiamo vinto Pure due puntini Vai così Oh attenzione Però qui abbiamo due brigate Ma che stai a dire? Scusa Questa è una cavolata La macchina Enigma E mica l'hanno Ottenuta così Da ora che ce l'avevano Il cavolo Perchè non possiamo attraversare? Perchè non si può attraversare Questa è una cavolata Questa è una cavolata Proviamo di qua Ma Andiamo verso Pignataro Maggiore Perchè non si può attraversare